13? Sono pochi? Ma io per me, è stato sempre, da quando lo conosco, è sempre un genere uomo. Insomma, si è interessato anche del paese, si è interessato. Bisognava che lui doveva restare. Abbiamo perso un grande sindaco, una persona per bene, una persona davvero per bene. Conosciuta e rispettata in tutta Italia per la sua correttezza, la sua messa, la sua intelligenza e la sua cultura. L'unica cosa che posso dire è che Modugno non ha più futuro. Era una brava persona secondo me, motiva a riuscire a fare qualcosa.